Io sono disposta a parlare con Michele, ma lui mi deve dire quello che è successo il 26 agosto 2010. Mi deve raccontare quello che ha provato in quel momento, quello che ha vissuto. Deve smetterla di fare il pagliaccio, perché dobbiamo mettere un punto a questa storia e arrivare alla verità, quella che lui non vuole dire. Concetta Serrano, madre di Sara Scazzi, rompe finalmente il silenzio. Sono passati quasi 14 anni dal tragico 26 agosto 2010, ma il ricordo dell'atroce omicidio è ancora vivo. Il volto di Concetta è segnato dalle lacrime, poiché nulla può mitigare il dolore di perdere una figlia così giovane. Ciò che è accaduto successivamente ha aggiunto un'ulteriore angoscia. Anni di menzogne, depistaggi, false accuse e cambi diversione hanno travolto la famiglia, trasformando il tranquillo paese di Avetrana in un set televisivo e luogo di curiosità morbosa. Migliaia di visitatori da tutta Italia hanno invaso l'intimità di una famiglia già devastata da una tragedia indicibile. Per Concetta, il dolore è stato reso ancora più insopportabile dalla scoperta che i responsabili del male inflitto alla sua amata figlia. Erano la sorella e la nipote, entrambe legate da vincoli di parentela. Cosima Serrano e sua figlia Sabrina Misseri, cugina di Sara, sono state condannate all'ergastolo in tutti i gradi di giudizio. La sentenza è definitiva, anche se le colpevoli continuano a professarsi innocenti, sperando in una revisione del processo. A sostenere la loro speranza di liberazione c'è Michele Misseri, marito di Cosima e padre di Sabrina. Zio Michele, come è stato ribattezzato dalla stampa fin dai primi giorni, è stato rilasciato di recente, dopo aver scontato una condanna di otto anni per soppressione di cadavere, un reato già di per sé gravissimo. Secondo la sentenza dei giudici, sua moglie e sua figlia hanno strangolato Sara, mentre lui avrebbe occultato il corpo della nipote. Da tempo l'uomo sostiene un'altra versione dei fatti, affermando di essere il solo responsabile di quanto accaduto, autoaccusandosi anche dell'omicidio e scagionando Cosima e Sabrina. Questa sua decisione suscita interrogativi perché continuare a sostenere una verità diversa da quella stabilita dai giudici. Concetta ha espresso la volontà di confrontarsi con lui, desiderosa di comprendere e penetrare nella mente del cognato. Vorrebbe gridargli in faccia di smetterla di mentire e permettere alla povera Sara di riposare in pace. È importante ricordare che la quindicenne scomparve il 26 agosto e venne ritrovata dopo 42 giorni, grazie alle indicazioni fornite da Misseri, che indicò agli inquirenti il luogo in cui aveva nascosto la nipote, un pozzo. Inizialmente sostenne di essere stato il solo a compiere tale gesto, ma successivamente ammise di aver solamente occultato il cadavere, accusando poi la moglie e la figlia del delitto. Dopo il loro arresto, cambiò nuovamente versione, autoaccusandosi anche dell'omicidio nel tentativo di discolpare le due donne. Tornando a Concetta, durante un'intervista al programma Quarto Grado, la donna ha rievocato il suo calvario, mettendo in luce le bugie di Michele, che ancora oggi, da uomo libero, continua a professarsi colpevole di un crimine che non ha commesso. Quello che dice e che fa mi ferisce molto. Mia figlia ha ricevuto una giustizia processuale, ma per come si comporta Michele è come se avesse ricevuto una giustizia a metà. Deve smettere, di fare il pagliaccio. Ormai sa che nessuno gli crede. Sa che la magistratura non gli crede. Sanno che è innocente, ma lui va a ruota libera, proclamandosi colpevole, giusto per far contente sua moglie e sua figlia. Dovessero scomparire le donne di casa sua, lui allora direbbe la verità. Io sono disposta a parlare con Michele, ma lui mi deve dire quello che è successo il 26 agosto. Concetta riflette sul momento in cui il cognato fu intercettato in carcere, poco dopo la sua prima confessione. Appena arrestato, non era consapevole di essere sotto ascolto. Ho visto dei video che parlano chiaro della sua innocenza. Durante un colloquio disse alla nipote, ho coperto la Sabrina. Se lei non c'entrava niente, perché la tirò in ballo? Più avanti disse sempre alla nipote, abbiamo fatto i furbacchioni. Quindi stava parlando di più persone e non di una persona sola, cioè lui. Chi sono questi furbacchioni? Poi disse, avremmo dovuto chiamare i soccorsi. Perché non li hanno chiamati? Hanno fatto tutto di testa loro. Quando Michele è stato arrestato, tutti credevano che fosse l'unico colpevole. Mia sorella inveiva contro di lui, diceva, non lo voglio più vedere, non lo voglio più ascoltare. Se lui muore non lo devono seppellire nemmeno ad Avetrana. Poi ho guardato un video di un incontro in carcere e ho visto moglie e figlia affettuose con lui. Non sembrava l'incontro con un assassino. Questa madre disperata è stata ulteriormente sconvolta dalla lucidità e dalla sfrontatezza dei protagonisti di questa vicenda. Subito dopo l'omicidio, Sabrina simulò una ricerca di Sara. Questi momenti drammatici sono impressi nella mente di Concetta. Venne a cercarla a casa mia. Uscì la badante e le disse che Sara non c'era, che era andata a casa loro. Poi uscì io. Sabrina mi disse che la madre non era a casa e stava per dirmi che nemmeno il padre c'era, ma non finì la frase. Nei giorni successivi, durante le ricerche di Sara, i misseri furono intervistati. Questi eventi sono vividamente ricordati da Concetta. In tv dissero che quel pomeriggio Michele dormiva sull'asdraio eppure che Cosima stava dormendo. Quindi non era vero che non erano in casa. Pensai che mi avessero detto delle bugie, che avessero visto qualcosa. Ma perché mi avevano mentito? In quel momento però non pensavo fossero colpevoli. Fino ad ora Concetta ha trattenuto il suo dolore in silenzio, custodendolo tra le pareti di una casa ormai vuota, avvolta nel silenzio. Negli ultimi anni ha scelto di non rilasciare più interviste, preferendo vivere in silenzio con il suo strazio. È rimasta sola, decidendo di restare ad Avetrana dove ogni singolo angolo le ricorda Sara. Il marito Giacomo si è trasferito a Milano e il loro rapporto si è ormai incrinato. Anche l'altro figlio, Claudio, lavora a Milano e vive con il padre. Concetta raramente esce in giro per Avetrana, conducendo una vita riservata, uscendo principalmente per recarsi al cimitero e pregare sulla tomba di sua figlia. Avetrana è un piccolo paese e la casa di Concetta dista solo poche centinaia di metri da quella tristemente famosa di Via Deledda, luogo dell'omicidio. Zio Michele è tornato a vivere lì, da solo naturalmente, mentre la moglie e Sabrina sono in carcere e l'altra figlia Valentina non risiede più lì. Forse Michele potrebbe accettare l'invito di Concetta a parlare con lei e magari confessarle la verità per liberare la sua coscienza dopo anni di contraddizioni. Se lo facesse, la comunità di Avetrana potrebbe perdonarlo e offrirgli aiuto. Lui desidera rinnovare la patente per guidare il trattore e tornare a lavorare nei campi, e questa potrebbe essere l'opportunità. Al momento nulla è cambiato nei suoi pensieri. Di recente ha detto, dopo sette anni non è facile uscire fuori, specialmente con due innocenti in carcere e io che sono colpevole fuori. Mi hanno sempre detto che sono innocente. Sarebbe bello se lo fossi. Se io fossi innocente, Sara sarebbe ancora qui, in mezzo a noi a sorridere. È difficile, per colpa mia ho distrutto la famiglia. Sono emigrato in Germania con mia moglie. Abbiamo fatto la casa, comprato i terreni. Abbiamo fatto tutto e io, in due minuti, ho bruciato tutto. Sara voleva essere adottata da noi. È da quando era piccolissima che stava da noi. E questo mi fa ancora più male, perché ho cresciuto Sara e poi l'ho ammazzata. Secondo l'avvocato Franco Coppi, uno dei più rinomati penalisti italiani e difensore di Sabrina, l'unico responsabile del delitto è proprio Misseri. Per Coppi, la condanna di Cosima e Sabrina è ingiusta e l'intera narrazione dell'omicidio di Avetrana deve essere rivalutata. Questa vicenda è diventata una questione cruciale per il professore, che afferma L'idea di morire senza aver aiutato questa ragazza, Sabrina, è una cosa che non mi abbandona. Ho interrogato Misseri in corte d'assise e gli ho chiesto brutalmente ed esplicitamente se fosse lui l'assassino di Sara. Mi ha risposto di sì. In base alla lettura che faccio degli atti, da una parte ho elementi per convincermi che dice la verità quando si riconosce responsabile dell'omicidio. Dall'altra, continuo a ritenere che Sabrina avesse un alibi di ferro. Quindi alla colpevolezza di uno corrisponde l'innocenza dell'altra. Ecco perché mi sento tanto sicuro di quello che dico. Ed ecco perché ho sofferto e soffro in modo particolare questa decisione. Secondo l'avvocato Coppi, il presunto movente dell'omicidio sarebbe stato un presunto tentativo di approccio sessuale da parte di Misseri nei confronti della nipote. Tale approccio avrebbe scatenato una reazione violenta da parte della giovane, minacciando di rivelare tutto alla cugina Sabrina. Tuttavia i giudici hanno individuato il movente nell'ambito della gelosia di Sabrina nei confronti di Sara, poiché entrambe le cugine erano interessate allo stesso ragazzo. Anche per concetta non vi è alcuna conferma di un tentativo di approccio sessuale da parte dello zio. È una sciocchezza, afferma la donna. Questa opinione è condivisa anche dai giudici.